In questo saggio l'autore Andrea Antonello Nacci affronta il tema della magia caotista con metodica e logica ineccepibili, approcciandosi con la dovuta freddezza di chi intende creare un'opera in grado certamente di trasmettere conoscenze e sensazioni intense, ma senza che la stessa sfoci nel frivolo sensazionalismo che fa tanto bene al commercio e poco all'evoluzione della coscienza umana. È veramente possibile raggiungere il cuore della dottrina magica e restare comunque curiosi come fanciulli che osservando la crisalide nel suo stato di morte apparente, fantasticano sul colore delle ali della futura farfalla? A mio avviso sì, e se ciò non dovesse verificarsi, allora il mago avrebbe certamente fallito nel suo cammino di crescita e consapevolezza. Stregoni, maghi, semidei, sono gli attori sull'invisibile scacchiera del destino, entrambi accomunati dall'aver percorso, o star percorrendo, il medesimo sentiero. Dall'introduzione di Mario Contino